buonasera a tutti e a tutti siamo con stasera con la maestra Carla Aprile e che è una poi avremo modo di 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 conoscere e di dire anche qualcos'altro del perché è una eh testimonia l'eccellente ma è anche un un insegnante che sta utilizzando ehm la nostra antologia leggimi ancora per la quarta e la quinta allora come prima cosa grazie benvenuta Carla ti vorrei chiedere un po' insomma queste queste attività che riguardano il lessico come 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 funzionano come si possono utilizzare cosa ne pensi? Allora innanzitutto salve a tutti eh grazie di questo invito veramente sono onorata anche di avere a che fare con un professore così importante il lessico allora il lessico eh è molto importante nella sfera degli apprendimenti dei dei bambini lo sappiamo benissimo e e sappiamo bene anche quanto le parole proprio singolarmente siano importanti in quanto consentono di dare forma al proprio pensiero alla propria esperienza emotivo affettiva e danno la possibilità anche di entrare in relazione sia tra di loro che appunto anche con gli adulti e il possesso delle parole quindi è un veicolo chiaramente irrinunciabile nella costruzione delle conoscenze in tutti i campi del del sapere e credo che sia molto importante quindi arricchire il patrimonio lessicale degli alunni anche proprio dei percorsi eh specifici didattici attraverso attività sia orali che eh di lettura e di scrittura nella scuola primaria credo sia molto importante un approccio un approccio emotivo e in quanto i bambini imparano a riconoscere eh e a dare un nome proprio a quello che ehm sono le loro emozioni e imparano a a chiamarle per nome a riconoscerle e e anche a saperle gestire e in quanto maestra proprio eh so che cosa significa ehm avere dei bambini no? Che li prendi in prima e poi fanno tutto un percorso anche emotivo non soltanto di apprendimento proprio no? Di crescita eh di del sapere ma proprio a livello personale di crescita eh di relazione di socializzazione di di crescita anche personale proprio e quindi è bene partire anche dai da alcune letture che a volte possono dare proprio il la nota giusta ecco il 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 la il do non lo so che nota è io non sono però la la nota giusta per capire che innanzitutto siamo un po nella stessa barca quindi non è che eh noi viviamo un'emozione che gli altri non hanno mai provato ma anzi sono le emozioni che ci accomunano e quindi è bene dirselo a volte leggerlo eh capire che anche gli altri hanno le stesse difficoltà nostre hanno gli stessi imbarazzi hanno le stesse paure hanno le nostre incertezze e quindi è un modo per eh rimanere uniti e apprendere nuovi termini usare anche il vocabolario il dizionario e questa è una cosa che io ho potuto sperimentare ai bambini piace tantissimo l'uso proprio imparare l'uso del dizionario ai bambini piace tanto si mettono in gioco abbiamo creato dei eh delle sfide anche a squadre per vedere chi trovava prima la parola oppure di ipotizzare prima che qual era il significato della parola e a capire se avevano indovinato attraverso quindi la ricerca e poi la lettura del della terminologia giusta e quindi questa è una cosa che addirittura facciamo anche prima del tempo no ehm hanno anche un po' detto cioè ma come già in seconda l'uso del dizionario ma non è un po' precoce però loro è una cosa che proprio eh imparano velocemente e ho visto che poi si portano dietro quindi eh nel momento in cui hanno bisogno di capire effettivamente qual è il ehm il significato di una parola lo usano lo mettono in pratica non non lo lasciano lì abbandonato nell'armadietto o sotto al banco e quindi è mh entrare in contatto proprio con eh del materiale che può darci delle delle risposte credo che sia importante poi un'altra cosa che invece mi va di di proporre è mh è l'uso l'apprendimento dei eh dei modi di dire delle espressioni che adesso troviamo tantissimo no nel eh nella lingua parlata sicuramente però proprio ehm anche tra di loro io eh sto imparando da loro una terminologia adesso soprattutto con l'ultimo libro che stiamo leggendo sono loro che stanno insegnando a me e mi richiamano su alcune parole che non ho pronunciato bene o su alcune cose c'è maestra ma tu sai che cosa è questa cosa che stai leggendo perché non so se lo posso dire ma stiamo leggendo adesso in classe e mh va all'inferno Dante di eh garlando e quindi tra videogame fortnite tutti i termini nuovi diciamo che sono loro adesso che insegnano a me tutti questi modi di dire e anche questo è un modo bello per apprendere insieme sicuramente per mettersi in discussione e mh insieme anche ai giochi linguistici secondo me ecco questa è un'altra cosa che ai bambini piace tanto i i giochi svolgono un ruolo importante secondo me perché ehm coinvolgono sono molto ehm come possiamo dire eh mettono tutti sullo stesso piano e stimolano la fantasia la motivazione la perseveranza nel compito perché anche se sbagliano non si rendono conto e tirano avanti per la loro strada e quindi aumentano anche l'autostima favoriscono l'acquisizione quindi di linguistica eh anche di bambini che magari eh tendono a rimanere più indietro o anche i bambini stessi non italofoni per esempio o con problematiche linguistiche e e quindi c'è questo uso spontaneo della lingua un po' come diceva Rodaria che no il gioco per apprendere eh attraverso anche la teoria degli errori e mh e che ci fa comunque mettere in discussione perché e ci metto anche alla prova perché anche noi in classe eh a parte gli anagrammi rebus eh giochi di parole che eh si possono trovare anche qui sul libro ma ce ne siamo inventate anche noi di ehm di giochi nuovi di indovinelli nuovi di cruciverba io per esempio comincio sempre l'anno scolastico lo finisco con un cruciverba basato però sulla nostra realtà sulla nostra classe sulla nostra storia sul nostro percorso quindi su cose che soltanto loro su delle definizioni che soltanto loro possono sapere eh a parte quelle didattiche diciamo così però ecco ci rispecchia come come classe hanno un'identità si sentono un po' un'identità in questo bene allora noi abbiamo visto no Carla che eh come dire per con con leggimi ancora quindi si può e e con il tuo la tua mediazione didattica quindi ovviamente con la mediazione didattica dell'insegnante si può affrontare il tema così importante del lessico e l'acquisizione di di nuovi vocaboli a parte dei bambini in vari modi no ci sono delle attività abbiamo visto che ci sono delle attività dedicate proprio nell'antologia che sono proprio marchiate eh richiamate attività legate al lessico ci sono i giochi come tu dicevi c'è il il lavoro sul sul i giochi appunto i giochi con le parole come questi eh i giochi a cui tu facevi riferimento come gli anagrammi come i rebus che sono modi anche no metalinguistici cioè per ragionare sulla lingua la riflessione sui modi di dire che utilizziamo che quindi è di nuovo un ragionamento metalinguistico e che quindi rende i bambini più padroni della lingua no perché come dire riflettono anche sul modo in cui la utilizzano no quindi non è solo una competenza d'uso ma diventa una competenza processuale cioè io ragiono su qual è il perché il per come la uso e mi diverto a montare e smontare eh la lingua no è un po' è un po' la stessa differenza che c'è tra noi quando usiamo il computer e chi invece sa aprire un computer montarlo smontarlo sostituire un pezzo chiaramente no è una un livello di competenza eh superiore queste tutte queste cose sono cose sicuramente importanti e abbiamo cercato appunto in questo in questo testo di di dargli una una rilevanza no come come dicevi tu anche cercando sia di dare spazio a delle attività che possono essere trasversali sia poi di dare ovviamente lo spazio a quello che è la progettazione didattica dell'insegnante che deve contestualizzare e e e dare eh un eh un approccio e e invitare a un approccio che sia per quanto possibile eh giocoso no e e che quindi eh faccia eh avvicinare i bambini alle parole come qualcosa che è uno strumento quasi uno strumento magico no? Uno strumento di cui tu puoi entrare in possesso e a proposito di magia appunto eh in fondo ci siamo lasciati un po' no lo strumento forse più magico che abbiamo perché appunto eh Carla è una anche delle delle insegnanti che ha partecipato alla eh prima sperimentazione al primo anno di sperimentazione del progetto leggimi ancora da cui poi eh prende il nome eh l'antologia per la quarta e la quinta e e e e appunto eh in cui abbiamo sperimentato la lettura per per cento giorni. Eh un sacco di ricerche non soltanto quelle che abbiamo fatto noi e quella che abbiamo condiviso eh Carla non solo è una delle insegnanti che hanno partecipato ma direi una delle insegnanti eccellenti che hanno partecipato no? Molte volte l'abbiamo invitata a darci una testimonianza proprio perché insomma come ci hanno raccontato più volte anche i suoi stessi eh allievi i bambini e le bambine perché poi insomma bisogna ascoltare anche loro non solo i risultati dei test eh è un è stata un'esperienza no? Molto forte e e e rivelatrice. Noi sappiamo che i bambini dalle storie tirano fuori in qualche modo le parole anche anche quando noi non ci lavoriamo esplicitamente no? Cioè la la ecco ti vorrei chiedere proprio testimonianza cioè ehm mentre all'inizio del del progetto no? E c'era anche un approccio mio diverso ma anche da parte loro sicuramente perché erano io ero la prima timorosa a dire ma state capendo? Ehm avete capito il significato di questa parola? O comunque loro autonomamente mi fermavano per dire maestra ma che significa? Ma che significa? Ma che significa? Ad un certo punto poi non me l'hanno più chiesto. E io ho cominciato un po' all'inizio a preoccuparmi però comunque vedevo che che capivano cioè e quindi mh qualche volta mi fermavo proprio e facevo una domanda tra bocchetto oppure eh mi cercavo di metterli in difficoltà e invece mi davano testimonianza di aver capito e di aver capito bene e anche se il termine era magari cioè proprio nascosto tra le righe o era proprio un'inferenza ma di quelle proprio no eh pesanti ma veramente mi hanno lasciato tante tante volte a bocca aperta e da da non credere e quindi mh è stato secondo me un arricchimento lessicale proprio al topo al cento per cento questa è stata una prova eh sul campo che è veramente la lettura e la lettura ad alta voce e nei confronti appunto dei dei bambini di un adulto nei confronti dei bambini è efficace all'ennesima potenza e non soltanto poi a livello lessicale ma anche proprio a livello anche ortografico io su tante cose non ci sono più tornata e non ho ripreso la e con l'accento non ho ripreso la con l'acca perché ma perché adesso loro si rendono conto cioè in da soli eh sono migliorati tantissimo proprio nel nell'ortografia fanno tantissimi errori in meno e hanno acquisito un modo di scrivere tutti davvero tutti anche quelli che avevano un approccio un po' a rilento con la scrittura ehm sono partiti alla grande e scrivono veramente delle cose e sanno leggere anche dentro loro stessi e quindi vedo che li ha maturati tanto perché poi noi abbiamo continuato chiaramente quindi abbiamo cominciato che eravamo in terza adesso siamo in quinta e ne sono passati di libri sotto i ponti perché da allora poi non ci siamo più fermati e e forse all'inizio lo confesso poteva anche sembrare un po' pesantuccia ma non per l'ora in sé di lettura perché anzi loro se avessero potuto continuare sarebbero andati anche oltre l'ora e alcune volte l'abbiamo fatto però diventava anche un po' pesante per me certe volte perché no leggere per tanto tempo eh in una classe comportava una un certo impegno però devo dire che eh adesso se non lo facciamo ci manca e una cosa che ormai è entrata a far parte di noi è una nostra certezza fa parte proprio del dna della classe e sia della classe sperimentale ma adesso chiaramente è diventato anche del dna della classe e che all'epoca non poteva partecipare al progetto e e quindi a volte propongo io dei testi a volte li scegliamo insieme e quindi magari leggiamo degli incipit le prime pagine di un libro e poi continuiamo su quello che ci piace di più e quindi è bello perché a volte una classe sceglie uno l'altra classe ne sceglie un altro per esempio e ci sbizzarriamo ecco però è un momento che ci ha fatto compagnia anche durante la didattica a distanza devo dire la verità e quindi sia adesso quando siamo in sincrono e però anche in asincrono io registravo e e mandavo l'audio e devo dire che tante volte mandavano i messaggi bambini anche i genitori maestra Carla grazie perché è di compagnia la tua lettura è di compagnia anche per i genitori non solo per i bambini si mettevano sul divano la sera durante il lockdown questa cosa mi hanno mandato anche le foto e ascoltavano insieme le letture della maestra Carla quindi è bello questo è bello perché unisce la lettura unisce non solo fa crescere arricchisce ma unisce secondo me tanto grazie grazie questa è una cosa molto bella e allora abbiamo provato a tradurla no anche questa questo mi piaceva quando tu dicevi appunto che una cosa che riflette anche il nome no che abbiamo dato sia al progetto che all'antologia cioè leggimi ancora vuol dire leggimi nel senso tu tu maestra leggimi ancora ma vuol dire anche leggimi leggi me leggi me quindi dicevi come come aumentano anche le capacità di autoanalisi di autoriflessione e come appunto eh visto che questo era poi il tema il tema di oggi come come i bambini anche dalla semplice esposizione ripetuta mi mi ha interessato molto questa cosa che tu dicevi che dice a un certo punto hanno smesso di chiedere il significato di alcune parole no perché questo ce lo ci viene spiegato anche dalle ricerche sui bambini anche molto piccoli che i bambini a un certo punto imparano a estrarre dal contesto il significato della parola e che è se ci pensiamo bene il modo naturale con cui apprendiamo i primi rudimenti della lingua no e quindi l'esposizione alle storie per questo abbiamo messo e questa è anche un'altra caratteristica prima eh ci venivano mostrate no le slide con con i due racconti di apertura questa è un'altra caratteristica di questa antologia il dare tanto peso ai testi ma anche di avere dei testi originali integrali e originali cioè che vuol dire inediti abbiamo chiesto infatti a cristiana antonini no di scriverci i racconti di apertura sia per la quarta che per la quinta e sono due bellissimi racconti ehm ecco eccole qua l'abbraccio nella neve e il dollaro della regina sono due racconti inediti che caratterizzano fortemente no questa antologia non solo perché ci sono e sono importanti sono belli sono tutte e due due racconti molto particolari eh e e anche due racconti con due universi lingvistici lessicali molto differenti tra di loro ma anche perché vogliono dare uno stile no? Uno stile che è appunto quello di favorire questa attività di lettura di lettura continua più possibile eh in classe perché come dicevi tu appunto i i i guadagni poi si vedono soprattutto chi chi è capace come come hai fatto tu di essere costante con una con una classe i guadagni li vedono io lo so bene perché insomma ho avuto a che fare con i tuoi eh bambini con i tuoi studenti e e e e è la loro capacità di loquela e la loro velocità lessicale è veramente notevolissima quasi quasi incredibile rispetto all'età che hanno io ti ringrazio Carla per questo grazie a voi veramente veramente grazie e grazie a tutti per essere entrati nelle nostre scuole e quindi grazie perché abbiamo conosciuto questa bellissima realtà che stiamo cercando di diffondere anche nel nostro piccolo nelle nelle nostre realtà e e quindi noi sicuramente porteremo avanti perché abbiamo visto che veramente che valore ha e quindi grazie ancora grazie grazie a tutti grazie a tutti